Partirà dunque oggi il ritiro dei ragazzi rosso-blu e di mister Nicola che insieme avranno l'audio compito di mantenere la categoria, dopo la fantastica annata che ha portato per la prima volta lo squalo in massima serie. C'è entusiasmo misto ad un po' di stupore e di scetticismo, questo più da parte dei tifosi a dire il vero, mentre sono pronti e carichi i giocatori agli ordini del tecnico piemontese. Pochi i volti nuovi già presenti in ritiro, da Annalini a Mazzanani sino all'ultimo arrivo Ceccherini, il quale ha parlato per la prima volta da calciatore del Crotone. Si è dichiarato felice di poter vestire questi colori, per lui è una grande opportunità poter giocare di nuovo in massima serie e lavorare ancora con mister Nicola, proprio il tecnico che lo fece esordire nella massima serie. Nello stesso tempo si è detto entusiasta dei suoi nuovi compagni che lo hanno accolto subito bene. Pochi volti nuovi dicevamo, ma la società sta lavorando incessantemente per far arrivare preziosi rinforzi in tutti i reparti ed anche per tentare di mantenere i pezzi pregiati che già ci sono in rosa. Già Marco Ferrari è uno di questi, per esempio, si è detto orgoglioso dell'interesse della Fiorentina, ma ha anche ringraziato il presidente Vrenna, il quale lo ha tolto dal mercato, ribadendo che a breve si troverà la soluzione migliore per tutti. L'impressione è quella che il numero 13 rosso-blu possa restare a Crotone con un adeguamento dell'ingaggio, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili, e cioè pari almeno a 6 milioni di euro. Stesso identico discorso per Martella. In entrata il nome più caldo è quello di Gaston del Castiglio, come già detto in questi giorni. La conclusione dell'affare sembra molto vicina, con il rosso-blu che dovrebbero versare 200 mila euro nelle casse dell'indipendiente per un prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro per le prestazioni sportive del Consito. A breve si attende anche la firma di Tonef. Ci siamo, l'Europeo Optimist di Vela è pronto ad aprire le ostilità. Siamo stati alla conferenza stampa di presentazione presso i locali del club velico, che ha letteralmente trasformato il porto turistico in una cittadella della Vela. Il villaggio dei Bipper Bank Optimist European Championship verrà inaugurato giovedì 14 luglio, mentre invece il 16 ci sarà la cerimonia d'apertura dei giochi con le regate, che inizieranno il giorno dopo. Uno stabilimento balneare collegato a tutto questo e poi le attività all'interno del porto turistico con la sede del Circolo, un bar-restorante-lounge che sta per essere inaugurato il 14 alle 6 nell'Area Portorale insieme al villaggio dei campionati europei, dove abbiamo installato anche uno scivolo supplementare di 120 metri quadri, non fatto con due assi di legno inchiodate. Quello su cui siamo adesso. Quello su cui siamo dietro, ma progettato per rendere confortevole, sicura, anche esteticamente gradevole l'uscita a mare dei nostri ospiti e poi la cittadella della giuria del comitato di regata nella zona della banchina che oggi è la banchina del club velico e che diventa un'area hospitality elegante e ancorché sobria. Non più quindi barche rimessate sulla banchina, ma area hospitality, ristoranti-lounge, scivoli attrezzati ed un porto parzialmente chiuso al traffico da vivere sia per i crotonesi che per chi ci è venuto a trovare da così lontano. Sì, poi dobbiamo dire che non appena siamo arrivati abbiamo notato questo villaggio velico, lasciami passare il termine, veramente strepitoso con le postazioni delle varie squadre, dei vari team e le bandiere, insomma tutto perfetto, sembra come dicevamo prima, non sembra crotone. Pensa quanto è imbarazzante questa espressione, non sembra crotone, perché associamo crotone alle cose brutte, quindi quando qualcosa è bella diciamo non sembra crotone. Dobbiamo ribaltare questo concetto, crotone è bella, i lavori fervono in tutta la città perché la città si presenti al meglio, in collaborazione con il comune, in collaborazione con Acrea, il comune ha istituito una task force per i grandi eventi che sta funzionando, grande sinergia, grande collaborazione con la Camera di Commercio, con l'autorità portuale, con la Capitaneria di Porto, con la Regione Calabria e poi con le imprese nostri sponsor e poi con la stampa. Questa squadra che abbiamo messo in campo di cui sono l'allenatore ma neppure più quello perché ci sono tanti allenatori, perché una squadra così grande e necessita evidentemente di molti coach può fare miracoli e li sta facendo. Il porto turistico di crotone che diventa una passeggiata, che diventa un luogo da vivere di giorno, di notte con i rappresentanti di 46 nazioni che si godono questo spazio restituito alla vivibilità e alla bellezza, con le pescherie che non solo non sono ostili ma collaborano e hanno il cartellino di manager dell'evento perché gestiscono insieme a noi la viabilità e tutti i piccoli problemi che evidentemente in un'area chiusa al traffico ma viva, attiva si possono presentare. Io credo che Crotone abbia davvero le caratteristiche per essere la città trainante in Calabria e nel sud Italia. Questi eventi lo dimostrano e questi eventi preparano la serie A di calcio perché non finisce qua come non finiscono qua le nostre regate. Io credo che è un momento storico, fortunati noi che lo viviamo, fortunati noi che ne siamo, non voglio dire i protagonisti ma gli attori perché poi i protagonisti sono tanti, i protagonisti sono i cittadini crotonesi che amano la loro Crotone e che godono nel vederla così bella, ma era bella. Abbiamo soltanto levato il cellofan, abbiamo soltanto levato una patina di fango che la copriva e oggi la possiamo apprezzare per com'è. Voi spesso, tu, voi anche gli addetti al lavoro avete ripetuto spesso che questo era un evento per tutta la città, non solo del Club Velico, lo vediamo, è vero però io devo un attimo spogliarmi dai panni di giornalista e farti complimenti a te, all'organizzazione Club Velico perché siete riusciti veramente a portare un grande evento e questi sono i risultati. Grazie e complimenti. È molto importante quello che dici, non è un evento segregato nel porto, non è una manifestazione chiusa all'interno del Club Velico, ci sono i taxi perché, e lo abbiamo organizzato questo servizio, perché i nostri ospiti possano raggiungere il centro e in centro ci sono i negozi le cui vetrine parlano della regata e del mare e in centro c'è la mostra allestita presso la sede centrale di Bibbia di Banca in via Vittorio Veneto con i loro, i pittori crotonesi che hanno realizzato delle opere meravigliose e in centro c'è la mostra dei gioielli di Gerardo Sacco che in parte sono dedicati al mare e a questa regata. I musei sono aperti, evidentemente, come sempre, anche la domenica e diventano un pezzo importante di questo sistema e i turisti visitano le spiagge, visitano i ristoranti, visitano i bar, vanno alle Castella, vanno a Santa Severina, a Ciro per il tour delle cantine. E quindi è crotone che respira, è crotone che ne gode sul piano economico e finanziario, ma si fa conoscere, si fa conoscere al mondo per com'è. Quella immagine di un papà australiano, puoi riprenderla, è dietro di noi, che fotografa con la macchina fotografica, il nostro porto, ho sbagliato, è un papà svedese, perché la barca viene dalla Svezia e c'è scritto sulla vela. Quella foto degli svedesi che ci fotografano, per quanto siamo tutti quanti noi belli, si deve imprimere nel nostro immaginario collettivo ed essere un pezzo della costruzione di una nuova identità, o meglio, del recupero della nostra identità. Siamo stati figli di Milone soltanto nei libri di storia e sulla carta, siamo tornati davvero figli di Milone nella realtà.